my home my destiny anticipazioni dell'episodio che andrà in onda martedì 29 ottobre 2024 quando le ragazze stanno per tornare a casa savas chiamerà zainé per suo cellulare ma le risponderà sultan e quando verrà a sapere che ali risa e fuori a divertirsi deciderà di andare nel locale dove sono i ragazzi iscrivetevi al nostro canale youtube devo essere la squadra perché abbiamo tanti contenuti su tutte le soppre ma anche su tantissimi altri argomenti buona visione a tutti